Dopo quattro giorni di navigazione sono sbarcati al porto di Ancona i 37 migranti salvati dal naufragio nel Mediterraneo dalla nave umanitaria Ocean Viking. La ONG è sbarcata ieri sera alla banchina 22 dove è stato lestito un punto di prima accoglienza a coordinare la macchina delle operazioni e la prefettura di Ancona con il supporto della protezione civile, del comune, della Croce Rossa, dell'autorità di sistema portuale, del mare adriatico centrale e della capitaneria di porto. Assessore Guzzi, anche lei ieri si è recato nel porto d'Orico per verificare la gestione dell'accoglienza. La regione è stata coinvolta dal punto di vista logistico? Sì, noi sabato scorso siamo stati chiamati dal prefetto di Ancona, il dottor Pellos, che ci ha proprio chiesto di partecipare come protezione civile regionale ad una riunione che si svolgeva in prefettura sabato pomeriggio. Siamo andati e lì ci ha resi partecipi, c'erano tutte le forze dell'ordine, eccetera. Ci ha reso partecipi del fatto che il Viminale, quindi il Ministero dell'Interno, aveva chiamato la prefettura di Ancona dicendo che ad Ancona sarebbe arrivata, nella giornata di ieri appunto, come poi è avvenuto, una imbarcazione con a bordo un certo numero di migranti, 37 mi pare esattamente. Da questo la prefettura ha chiesto alla protezione civile regionale se poteva dare un contributo, una mano a creare un centro di prima accoglienza, ma non di prima accoglienza per farli rimanere, proprio di prima accoglienza sul porto, dove poter fare le visite sanitarie, dove poter fare le identificazioni. Quindi noi abbiamo montato un gazebo molto ampio, riscaldato, dove poter stare al caldo queste persone e abbiamo portato 5 container, uno appunto per le visite sanitarie, uno per l'identificazione, uno per i vari servizi, eccetera. Quindi noi abbiamo fatto questo. Nulla c'entra la regione, diciamo, in tutta questa situazione, se non da un punto di vista logistico richiesto appunto dalla prefettura. Quali sono le condizioni sanitarie dei migranti? Allora, stanotte lo sbarco si è dilungato fino alle 4 di mattina. Quindi io per essere onesto, verso l'11 di ieri sera, anche molto infreddolito, sono andato via dal porto di Ancona e non ho seguito tutte le fasi, quindi fino alla fine, ma l'ho sentito anche stamattina ai miei collaboratori, non c'è stato, credo, nulla di che, se non qualche persona che si è dichiarata minorenne, che non era, diciamo, così stata prevista. Cioè si pensava, si aveva notizie di 12 minorenni su 37, invece parrebbe che siano 18. Quindi c'è stato forse anche un dilungarsi dei tempi per l'identificazione dovuto a questo fattore. Sempre a Ancona è previsto l'arrivo di altri 73 migranti. Dunque quando sbarcherà la seconda nave umanitaria? È prevista domattina alle 7. Quindi domattina alle 7 dovrebbe arrivare anche la Geo Barents, mi pare si chiami, con 73 profughi a bordo. E anche in questo caso credo ci siano dei minori, non mi ricordo quanti, dichiarati, insomma, dall'equipaggio. Quindi rimarrà tutto allestito? Sì, ovviamente rimane tutto allestito fino domattina, ma io direi anche che prima di smontare, diciamo, riportare via tutta questa attrezzatura, qualche giorno la lasceremo al Porto d'Ancona. Finché non avremo eventuali notizie di nuovi arrivi, che spero che non ci saranno, dovessero esserci nuovi arrivi, smontare e poi rimontare tutto. Ci sono stati 40 volontari che hanno lavorato per due giorni, quindi la nostra protezione civile, come sempre, è stata molto attenta, disponibile, ma ha anche dovuto lavorare parecchio. Quindi prima di smontarlo vorremmo capire se ci saranno o meno altri arrivi da qui i prossimi giorni. Credo di no, non sono stati ancora annunciati e vediamo se ci saranno o meno.